Sì! Dove vai? No, no! Oh mio Dio! No, no! Attento! C'erano due persone dentro che provavano ad uscire, però io le provavo a chiamare ma loro non sentivano per via della botta. La persona coinvolta è una sola, che era il proprietario dell'appartamento che è in codice rosso, è l'unica situazione che ci testa un po' di preoccupazione di questo signore. Ho sentito solo un botto enorme, una bomba, ho sentito. Visto che c'era questa palestina in fiamme, tutta contornata da vigili, polizia, fiamme che uscivano dall'ultimo piano. Sembrava come se ci fosse un terremoto, abbiamo chiamato i pompieri e ci hanno evacuato e siamo scesi per strada. Se fosse partito subito il fuoco probabilmente non ci sarebbe stato, forse sarebbe salvato nessuno.